e poi io ero avanti dopo i piedi se se meglio un colpo di una là boh vai via piano adesso vai tirti avanti, tirti avanti se riesci non fermarti vai via lungo che arrivi su se riesci andando diretto se riesci andando diretto arrivi su bravo bravo bella lì vedi un pelino larga eh qua vai che è perfetto ma va ma va ma va ma va dopo qui il volo continua è una curva eh prima ma non gli ha dato aspetta vai 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 Grazie a tutti.